Buongiorno, buongiorno, volete un caffè o preferite qualcosa di fresco? Niente, grazie. Sapete, in questa zona nel 1600, diverse persone furono processate dal tribunale dell'inquisizione. Ma non tutte erano streghe. Tra di loro c'erano anche dei benandati. Sei una fotografa? Sì, vivo di questo insomma. Non mi piace che si guardi in casa mia. Chissà che cos'ha in quel sacchetto, Edith. Ciao, non mi aspettavo una tua telefonata. Ha trovato una sistemazione qui in paese? Sì, sta oltre la ferrovia. Per caso vicino a Edith? Certo, la conosce? Oh sì. E' strano. Tieni dell'acqua fresca sul davanzale della finestra. Mi hai spaccato fuori all'improvviso facendomi prendere uno spavento. Anna! Io sono il capobranco. Deve dare retta a me. E si dice anche che parlassero con i morti. Ma come si sapeva che erano benandanti? Da che cosa si capiva? Nascevano ancora avvolti nella placenta. L'avrei sentito dire quel detto nato con la camicia, no? E' da lì che viene. C'è qualcosa in questa casa che mi crea l'ansia. C'è qualcosa in questa casa che mi crea l'ansia.